Ciao! Che bello... Ciao! Fammi parlare! Siamo due scemi. Ciao a tutti amici di Player Inside, bentornati a Game Fails, la rubrica in cui voi ci mandate bug, glitch e momenti divertenti, fail nei videogiochi. Non vedevo l'ora di una nuova puntata di Game Fails. Effettivamente è mancato per un po' ma perché abbiamo avuto mille problemi. Posso dire Game Fails è sempre divertente eh? Da sempre, lo facciamo dal 2015. Level Up compie 5 anni e in occasione del quinto anniversario è stato rilasciato un nuovo gusto, che si chiama proprio Fifth Anniversary Edition, un mix estivo di pesca e albicocca. Ma oltre questo, la cosa veramente interessante è che sempre in occasione del quinto compleanno di Level Up c'è il 2x1 su tutto. Potete acquistare qualsiasi prodotto presente sul sito, ovvero il negozio ufficiale di Level Up, e usufruire dello sconto del 50%, ovvero il 2x1, semplicemente raggiungendo il sito al link che trovate nella descrizione di questo video, scegliendo i prodotti che più vi aggradano e inserendo il codice PLAYERINSIDE2. E lo sconto è pazzesco! E magari con l'occasione provate anche la Fifth Anniversary Edition che noi avremo modo di provare in settimana e vi faremo sapere com'è. Ma sempre assassinato? Ma è possibile? Beh mi sembra giusto, ha ancora freddo. Però secondo me è tutta una tattica, quella di non morire incendiato. Questo non so, non so cosa stia accadendo. Però è bellissimo come sanguina. Tra l'altro... Non c'è il pc per fare girare ste cose. Ma no, ma guarda, ci sono allungati tutto un bug. E c'è, no, tutto un artefatto grafico, che gli sia sminchiato tutto. E dai! È normale, no? Cioè, è wireless. Oddio. Ma sono tranquilli. E tra l'altro trapassano le cose come se non ci fosse un domani. Questo è l'originale Far Cry. Sì, a parte texture non caricato. Vabbè, meglio, no? Oddio. Ma che bella figura che fa, eh? Ah, gol sbagliato a porta vuota? No. Cosa? Allora, così non è mai successo. Cosa è successo? Ah, risolto, risolto. È diventato il blitz di... Qui è tutta buggata la scena. Dai. Corre, torni. No, dai là. Scappa là. Eh, no. Cosa? Si è sdoppiato. Dove sta andando pezzente? Dove sta andando pezzente? Vai, vai là. Si vede lui che corre. Ma Doppelganger è meraviglioso. È sottomondo. Cioè, pure frizzato tutto. È frizzato, sì. Sottomondo in Spider-Man. Dai, 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 dai che lo recuperi il sopramondo. Dai. No, non ce la fa. Dai che recuperi il sopramondo. Spoiler non ce la fa. No. Attenzione, Mass Effect. Eh. Attenzione, qui è più grave il sottomondo. Madonna. Perché è nello spazio. Caricamento. Nello spazio. Però vedi come procede, siccome è anzianotto, no? Giustamente procede così. Giorgia privano il popolo di tutto per mantenere il potere. Guarda lo spazio. Cosa? Rivediamo? Che cosa è? Cosa è? Ma poi il cavallo. Bene. Capita anche il sopramondo, vedi? Questo è sì, però... Ma WWE è buggato. Quello sta facendo le spalle. Spalle e tricipiti. Adesso no. Guarda è basso, perché veramente non capisco. Non capisco. È buggato come la merda. Cosa vuoi? Chi l'ha dato? Ma si sa che nel wrestling è tutto finto, quindi a chi lo dai dai il calcio non fa niente. L'arbitro lì dice tutto normale. Sì, sì. Quello è rimasto... Vabbè, senti. Nooo. Questo è sesso. No. Questo è sesso due. Madonna. Ah, Skyrim. Ci stava. Allora, non solo quest'orso è buggato. Mentre Baldur's Gate ci puoi fare. Questo usa addirittura l'abilità di Link Ascensus. Perfetta. Cominciamo un intramuscolare. Sì. Un ribaltamento. Ci sta. Ma ci sta, queste sono cose che... Il carammato che sì. Io avevo il carammato e lo facevo. Anche con la macchina, facevo sempre così. Impennavo al contrario. Questa è bellissima, perché lui dice scendo per vedere il bug... Bravo. Ma si bugga la macchina. Bravo, amico mio. Così dovete fare. Dovete essere bug hunters, perché altrimenti... Sì, però per fare così non solo si è ribuggato la macchina, ma ha fallito la missione. C'è qualcosa che non va quei motociclisti là dietro. Allora, certe cose fatele dopo. È in tandem. È in tandem, Ryan. È in tandem, ho capito. È in tandem. È in tandem. Bello, tu aspetti al semaforo e succede questo. Eh. E questa anche nella realtà può capitare. Atterrano auto. Si spawnano. Sì. Ma guarda, a Catania a volte è così la situazione. No, è sempre così. Ogni tanto non è così. Cosa spari con le mani? Questo mi è capitato pure a me in live. Ma lui sta parlando tranquillamente. Sì, ma nel frattempo, giusto? Poli. Ma vuoi entrare in macchina? Una lettera. Per me. Eh, si è emozionato, mannaggia la misera. Ma addirittura. Comincia così la scena. Non me ne danno mai lettere. Non... Eh... Cosa non succede? Questa è la sottile. Questo finge. Ma non solo finge. Non muore. Allora... Ciao totale. No, in realtà è già morto. Ah. E però lo sai che in Cyberpunk non si muore mai davvero. Eccolo. Eccolo, sì sì. E' tutto a posto, Nick. No, Nick è sempre un problema. Una volta nuotava nell'aria. Vabbè, ma lui è un sintetico, quindi ti... Ha capito, sarà sintetico. Sarà bugato. Signorina? Ok, usiamo l'arma. Riprendiamo l'arma. C'è sta. Posa, riprendi però. Riprendi... Riprendi... C'è riso nel frattempo. Decidi? Ah, questo è il classico bug. Del rimbalzello. Del rimbalzello. Però si può risolvere. Rimbalzello salterello. Vai. Catanagli la faccia. Catanagli la faccia. Catanagli. Ecco, risolto. Risolto. Tieni, amico mio, ti ho liberato. Io ho alzicato uno shuriken. La mia macchina potrebbe creare scompiglio. Secondo me lo faceva apposta. Che cosa fa? Ma si sta ascoltando la musica? Ma dai, ma perché picchiarlo solo perché ascoltava Gianni Celeste? Sello sfondo. Tutto normale. Vabbè, ma sto facendo esercizi. Ma puoi ne fai squat. Cioè, oddio. Un po' difficile così. Ma pur. Sì, fu? E il boss dice, io non voglio con te. No, no, ma perché mi devi ammazzare? Perché dobbiamo... Hai attivato pure la modalità easy. Eh, non mi va. Che muoio subito. Questa è super easy. Eh, super mega easy. No, no, lui ha visto che ha attivato la modalità easy e non vuole morire. Dai, Joelle. Non... Joelle? Joelle, ma... Jo è Joelle. Hai una mira! Ma prendilo! Joelle, però pure quello non è che i pugni... Insomma, sono due coglioni, ragazzi. Due cretini totali. Lo sai che c'è il salto della fede? Sì. Qui è un'altra versione. È questo. Super salto. Fenomenale, aspetta. Eh, lo sapevo che... Sulle caviglie proprio. I tendini andati. Nooo, il pistolone, signori. Il pistolone, signori. E questo succede ogni tanto quando uno dorme. È un piccolo twerk. Sì. Lo sta invitando. Sta dicendo se ti piace quello che vedi. Eccolo qui. Eccolo qui, per il pistolone. A disposizione. Per il pistolone. Ragazzi, questi bug erano veramente divertentissimi e vediamo se il miglior bug della scorsa volta fa veramente ridere. Ah, che bello. Sincronizziamo. Sì. Ah, me l'immagino. Ricordatevi di votare il miglior bug di questa puntata seguendo il link in descrizione e mi raccomando mandateci i vostri filmati, le vostre clip, seguendo le istruzioni in descrizione. Allora, per favore però, con la scusa di mandarci le clip, non ci mandate la foto del pene. Non c'è, a parte il pistolone, non... Perché quelli non vanno in sexy bug, quelli sono proprio da denuncia penale, quindi state attenti. Mi raccomando, noi vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Ah, e potete anche lo mandare per forza bug, ma fail, come per esempio un gol sbagliato. Un gol sbagliato è NBA 2K... Gol. Sì, vediamo come lo fai.